Elena Pavan ammette di fare parte del consiglio dell'Anci e non del direttivo, ma le domande per il sindaco non sono finite. Un gruppo di alpini di Bassano celebrerà i cent'anni dalla sezione Montegrappa ripercorrendo in Russia la ritirata del corpo alpino. Oltre 10.000 euro di multa per il libretto di fine mandato di Poleto, per il consigliere regionale e l'Ighista non devono pagare i cittadini. Proposta di telespettatori di Rete Veneta, via le rastragliere sempre vuote per le bici e il posto piazzole per disabili. Intervento da record all'ospedale di Campo San Piero per la prima volta ha sportato un tumore all'intestino con un robot da Vinci. Nuova edizione di Bassano Tg, buonasera a voi telespettatori, avete sentito, ha del clamoroso la comunicazione emessa pochi minuti fa dal municipio di Bassano. Elena Pavan non è del direttivo nazionale del Lanci, come annunciato a novembre, ma fa parte solo del consiglio nazionale dell'Associazione. Ora si aprono altri interrogativi. Il nostro primo servizio. Controordine bassanesi. Elena Pavan non fa parte del direttivo nazionale del Lanci. Contrariamente a quanto reso pubblico dal municipio a novembre e da quanto confermato dal sindaco di Bassano in seguito, Pavan fa parte solo del consiglio nazionale dell'Associazione dei Comuni Italiani. Una differenza mica da poco che la nostra emittente aveva già evidenziato in più occasioni. Ecco il testo integrale del comunicato stampa emesso dal municipio di Bassano del Grappa per chiarire una volta per tutte questa situazione. In riferimento all'incarico ricoperto in Anci dal sindaco Elena Pavan, si precisa che il primo cittadino è nel consiglio nazionale e non nel direttivo. Elena Pavan precisa Non fa parte di me millantare titoli e crediti che non ho. Per un fraintendimento è stato utilizzato il termine direttivo anziché consiglio. Ho già dato mandato agli uffici di correggere questo termine errato e di sostituirlo con la dicitura corretta. Il sindaco continua, spiace per le polemiche politiche degli ultimi giorni, scaturite da un errore di forma più che di sostanza. Spiace perché, come detto, la sostanza è che con la mia presenza in Anci, dice Pavan, Bassano siede ad uno dei tavoli più importanti a livello nazionale per le tematiche che riguardano i comuni. E questo non può che essere un vanto per la città. Questo il comunicato. A questo punto però sorgono spontanee alcune domande. Ci chiediamo infatti perché si sia atteso tutti questi giorni per ammettere che c'era stato un errore. Sarebbe bastato che il sindaco avesse detto mi sono sbagliata il giorno in cui Rete Veneta ha chiesto per la prima volta chiarimenti su questo tema. Ed era il 9 gennaio scorso. La seconda domanda riguarda invece la determina con la quale è stato attivato un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato che ha portato l'ex sindaco di Pozzoleone già da scuccato nello staff del sindaco. Il provvedimento amministrativo sul quale si basa questo procedimento parla infatti di un supporto alle funzioni eccezionali per quanto attiene al ruolo del sindaco all'interno del direttivo nazionale ANCI. Direttivo. Bene, chiediamo ora al sindaco Elena Pavan se questa determina abbia ancora valore o meno. E cosa accadrebbe nel secondo caso. Speriamo di non dover aspettare un'altra settimana. Ed ora una notizia di cronaca appena giunta in redazione. Parliamo di un incidente mortale avvenuto nel tardo pomeriggio a Granella di Tezzo e sul Brenta. Un imprenditore in pensione di 84 anni mentre stava percorrendo in bicicletta via Marconi è stato travolto da un'auto. La strada è stata bloccata al traffico e la dinamica è al vaglio della polizia locale che sta eseguendo tutti i rilievi. Quindi ulteriori dettagli saranno dati nelle prossime edizioni nei nostri telegiornali. Parliamo ora di una multa per oltre 10.000 euro al comune di Bassano da parte dell'Agicom. La multa che il comune dovrà pagare è per quel libretto di fine mandato pubblicato dall'allora sindaco Poletto ed è ora polemica. In tempi di tagli dei fondi statali e gli enti locali arriva per il comune di Bassano una bella batosta, una multa da oltre 10.000 euro da parte dell'Agicom, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il motivo? Ce ne eravamo occupati in un servizio andato in onda il 20 maggio dello scorso anno a pochi giorni dalle elezioni amministrative. L'Agicom aveva stabilito che la pubblicazione di fine mandato Poletto era andata contro la parcondicio delle elezioni europee. A svegliare il canchedorme era stato Nicola Finco Bassanese, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, che interviene adesso di fronte alla multa arrivata fresca fresca. L'ultimo regalo dell'amministrazione Poletto è stata una bella multa di 10.000 euro che oggi dovranno pagare i cittadini bassanesi. Perché? Perché non è stata rispettata la parcondicio. Il comune ha voluto mandare in tutte le famiglie un libretto di fine mandato, però è stato mandato ovviamente all'interno del periodo elettorale. Quindi è arrivata questa sanzione che ha avuto il costo di ben 10.000 euro che dovremmo pagare tutti noi cittadini, che vanno sommati i 23.000 euro che ha speso sempre la precedente amministrazione per stampare questo volume. Quindi quello che mi auguro e ci auguriamo come cittadini innanzitutto del territorio bassanese è che sia l'ex giunta comunale a pagare questa multa in quanto l'errore l'hanno fatto loro, sono loro i veri responsabili e quindi devono pagare di tasca loro e non far ricadere questa multa sulle tasche di contribuenti bassanesi. E gli alpini di Bassano daranno vita nei prossimi giorni ad un trekking sulle stracce della ritirata dell'ottava armata avvenuta tra il Don e Nikolaevka nel gennaio di ben 77 anni fa. Nikolaevka è un nome che per lungo tempo ha evocato lutti, perdite e sofferenze. Una parola che ha il suono straziante di 100.000 gavette di ghiaccio, che ricorda Mario Rigonisterne e l'alpino Gioanin, che chiedeva al suo sergente maggiore se sarebbero mai arrivati a Baita. Un'invocazione nel canto di Bepi De Marzi, che non ha altre parole se non quel nome, Nikolaevka. Ma gli anni passano e la stessa Nikolaevka non esiste più, inglobata in altre città e in altri nomi. E c'è il rischio che la ritirata in combattimento da parte degli alpini del gennaio del 1943 diventi un ricordo sbiadito nella storia di ieri. Per questo motivo la sezione Monte Grappa dell'Associazione Nazionale Alpini darà vita in occasione del proprio centenario a un trekking che porterà un gruppo di penne nere sulle tracce di quella parte dell'ottava armata che lottò strenuamente per non finire nella morsa di un nemico, che poteva contare sul più grande alleato di sempre, l'inverno russo. Un gruppo di alpini bassanesi, assieme ad altre penne nere bresciane e bergamasche, ripercorrerà fra il 20 e il 26 di gennaio il tragitto percorso 77 anni fa dal corpo d'armata italiano partendo dal fiume Don per arrivare a Nikolaevka, dove l'ultimo slancio disperato permise agli italiani di sfuggire all'accerchiamento. Un trekking all'insegna della storia e dell'avventura in una terra che può riservare sorprese a ogni passo. Sicuramente sarà un'esperienza che presenterà delle sorprese perché il clima non sappiamo come si può comportare quindi potremmo trovare delle temperature più o meno rigide e incontrare anche della popolazione che ci potrà aiutare e ospitare, un po' come è successo 77 anni fa. Nello zaino i nostri alpini avranno anche i libri che sono stati scritti su quel doloroso capitolo di storia e ogni pagina di quei libri sarà l'occasione per dare nuova linfa alla memoria. Noi ci siamo preparati molto bene dal punto di vista storico perché vogliamo, passando in quei luoghi, capire profondamente. Abbiamo deciso tutte le sere che ognuno di noi, nel posto in cui saremo, farà un saggio di quello che ha studiato sul posto e sui combattimenti successi in quel posto. Il Partito Democratico si prepara alla grande svolta. Dopo le elezioni in Emilia Romagna il PD verrà rifondato. Ed è il segretario Nicola Zingaretti ad annunciarlo, un cambiamento che il Vicentino Giacomo Possamai aveva ospicato già qualche settimana fa e che oggi torna a rilanciare con il Partito per il Veneto. C'era una volta il Partito Democratico. C'era, c'è, ma non ci sarà più, non per quel che è oggi. È il segretario Nicola Zingaretti ad annunciare la rifondazione. I tempi? Beh, quel che resta del giorno. Rimangono le elezioni in Emilia Romagna, poi si cambia. Una previsione che noi di Rete Veneta avevamo anticipato alcune settimane fa, quando Giacomo Possamai aveva chiesto al PD un cambiamento, l'apertura ad altre forze, ad altre anime della sinistra. Sì, era l'idea che abbiamo lanciato ancora appunto da Rete Veneta qualche settimana fa, cioè il fatto che il PD, tanto più in Veneto, non sia in grado di rappresentare fino in fondo oggi la società, il nostro territorio. E quindi il bisogno di aprire la lista alle forze civiche, ad altri movimenti politici, penso ai movimenti ambientalisti, ai movimenti progressisti. Cioè il fatto di fare una lista aperta, il fatto che il PD si apre e non si arrocchi è fondamentale. Quindi adesso che lo dice anche Zingaretti, credo che a maggior ragione in Veneto dobbiamo lanciare questo patto per il Veneto. Cioè una lista, come era insieme per il Veneto di Cacciari, aperta e non un partito chiuso che risponde, diciamo così, alle logiche di Roma. Oggi Giacomo Possamai rilancia la sfida al suo partito, un patto per il Veneto, in vista della corsa per la poltrona di presidente della Regione Veneto. Di sicuro noi adesso non abbiamo più scuse. Se anche Zingaretti in chiave nazionale dice il PD si apra, a maggior ragione in Veneto il PD si deve aprire. Non abbiamo scuse. Una svolta, quella del Partito Democratico, che ha il suo concepimento politico nelle piazze. Vediamo in questi ultimi mesi che dalle Sardine a tante altre realtà c'è un forte movimento di piazza. Ci sono tanti movimenti che chiedono al centro-sinistra di cambiare. Quindi questa, diciamo così, operazione novità lanciata da Zingaretti ha senso se noi, per esempio, alle Sardine, per fare un esempio concreto, ci apriamo, cioè consentiamo alle Sardine di dire venite, invadeteci, cambiate questo partito da dentro, cambiate da dentro il nuovo partito del centro-sinistra. Insomma, il nuovo PD sta per nascere. E oggi, Giacomo Possamai, candida il Veneto a essere laboratorio di questa mutazione genetica del centro-sinistra. E ancora a voi, telespettatori, con le vostre segnalazioni protagonisti. E continuiamo ovviamente ad occuparci dei parcheggi dell'ospedale San Bassiano nel prossimo servizio. Biciclette, auto e posti auto per i disabili è stato realizzato tutto anche grazie al vostro contributo. Posti riservati ai disabili insufficienti e rastraliere per le biciclette quasi sempre vuote. Proseguono gli interventi dei nostri telespettatori sulla questione parcheggi a San Bassiano. Un tema che evidentemente appassiona i bassanesi e chi deve recarsi in ospedale e che si arricchisce di nuovo consiglio da parte vostra che ci seguite da casa. Da un lato il parcheggio per le biciclette, che viene utilizzato molto raramente dai ciclisti che preferiscono abbandonare letteralmente i loro mezzi vicino all'entrata, incatenandoli alla ringhiera, come ben documentano i nostri telespettatori. Dall'altro lato i parcheggi per disabili sempre pieni, occupati spesso da auto senza contrassegno o da conducenti che non stanno accompagnando realmente disabili. Ecco allora che ci fate due richieste, che noi giriamo alle autorità competenti, che gli agenti della polizia locale controllino le auto che parcheggiano negli spazi riservati ai disabili, che abbiano il contrassegno e che non siano abusi, e che le rastraliere per le biciclette vengano tolte, destinando quello spazio ad altri parcheggi per disabili. Infine che vengano multate anche le biciclette parcheggiate dove capita, ostacolando a volte l'accesso all'ospedale. Richieste legittime che noi gireremo da parte vostra, chi può esaminarle dando poi una risposta. E sarebbe di Bassano del Grappa, la famiglia che si è resa protagonista di una fuga da un ristorante di Reflontolo nel Trevigiano dopo un lauto pasto. Prima l'aperitivo al banco, poi la decisione di cenare al ristorante alla Tripolitania di Reflontolo. Una famiglia, madre e padre, due figli in età scolari, si sono così accomodati al tavolo ed hanno ordinato. Tutto è di più, antipasti vari, tagliate di manzo e vino. Poi, terminato di mangiare, a far scattare la truffa, è stato proprio l'uomo, con la scusa di andare in bagno per smacchiarsi la camicia, è uscito in volata dal locale, seguito dalla moglie e dai figli. Quando i titolari si sono accorti dell'assenza e con il conto ancora in mano, non hanno potuto far altro che chiamare i carabinieri. L'unica cosa che si sa della famiglia è che proviene, almeno secondo, quanto ha detto uno dei bambini, da Bassano del Grappa. Amareggiato anche il sindaco di Refrontolo, Mauro Canale, che ha spiegato che in zona presto saranno sistemate delle telecamere di videosorveglianza. E continua anche il nostro TG Linea Aperta, sempre sulla situazione di degrado vicino a casa vostra, quindi scriveteci se c'è qualcosa che non va via WhatsApp al 340-321-8379 oppure scriveteci via e-mail. Paura a Cassola per un incendio divampato in un garage nel seminterrato. Paura e danni a Cassola per un incendio che ha colpito una casa in costruzione nei pressi di via San Bonaventura. Le fiamme si sono sviluppate nel garage seminterrato e hanno interessato una catasta di legname. Poi si sono propagate al materiale da costruzione stoccato nel locale. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e rimesso in sicurezza l'area. Le cause dell'incendio sono ancora al vaglio. E a Tiene anche per il 2020 continua la collaborazione tra il Comune di volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Prosegue anche per il 2020 la collaborazione del Comune di Tiene con il 182esimo nucleo di volontariato e protezione civile dell'Associazione Nazionale Carabinieri. L'accordo stipulato dal Comune ha l'obiettivo di assicurare una maggiore vicinanza ai cittadini nei giorni di mercato in termini di presenza e di assistenza in materia di sicurezza. La presenza di volontari ha permesso di diminuire il numero dei borseggi e la microcriminalità. E venerdì sera alla Biblioteca Tina Anselmi del Liceo Brocchi arriverà un evento nazionale. Torna al Brocchi la notte dei licei. Venerdì dalle 18 la Biblioteca Tina Anselmi della scuola ospiterà l'evento nazionale che quest'anno riguarda 436 istituti in tutta Italia. L'evento vuole offrire alla cittadinanza un modo giocoso e teatrale per accostarsi ai testi della letteratura e della filosofia greche e latine senza trascurare le letterature straniere, la matematica e forme d'arte come il canto, la danza e la ginnastica artistica. Operazione chirurgica da record a Campo San Piero allora vediamo il perché. All'ospedale di Campo San Piero per la prima volta in Italia è stato rimosso un tumore all'intestino retto grazie al robot Da Vinci una macchina costata alla regione milioni di euro ma che messa nelle mani di chirurghi bravi e aggiornati come quelli veneti consente di sfruttarne tutte le potenzialità tecniche un investimento tecnologico che ha permesso all'equip di intervenire con una tecnica mini-invasiva con un robot che consente di non toccare gli organi non interessati dal tumore e che significa meno dolore e tempi di guarigione più veloci la sanità veneta è quella con il maggior numero di robot chirurgici in attività in Italia con un investimento totale di 70 milioni di euro all'anno in questo campo Un percorso che prevede colloqui con gli imprenditori dell'Alta Padovana ecco un nuovo modo di assistere i ragazzi che cercano lavoro Percorsi individuali con tirocinio nelle aziende del territorio e poi la speranza di trovare un lavoro vero c'è ancora tempo per aderire fino al 9 febbraio per i giovani disoccupati alla ricerca del loro primo impiego che abbiano tra i 18 e i 29 anni un progetto che interessa 16 comuni tra i quali Cittadella e il Capofila sono già 27 i ragazzi che hanno aderito in questo caso il valore aggiunto è proprio la possibilità di entrare in contatto diretto con le realtà produttive locali in occasione di alcune visite aziendali guidate nelle quali i giovani hanno potuto conoscere le realtà diverse e vedere da vicino il ciclo della produzione i ragazzi hanno appreso quali siano le figure maggiormente ricercate oggi nel territorio passando dal lavoro pensato immaginato e sognato alla conoscenza diretta della quotidianità in azienda grazie ai colloqui con gli imprenditori focus questa sera in diretta ospiti del nostro direttore Luigi Beccialli saranno Simone Bontorin Sonia Briscacin Joe Formaggio Antonino Pipitone Riccardo Poletto e Riccardo Scattarettico quindi non perdete l'appuntamento a partire dalle 21.15 vediamo ora i vostri sms e le previsioni del tempo di domani grazie intanto per essere stati con noi una buona serata a tutti voi su Rete Verita Grazie a tutti Grazie a tutti